La zia di rame in una lattoneria per lo più grondaie per circa 11.000 euro a Manciano in provincia di Arezzo. Sono così finiti in manette due uomini, entrambi albanesi di 32 e 38 anni. L'area furtiva che si trovava sul retro di un furgone è stata scoperta e sequestrata dalla polizia di Stato. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì. I due uomini erano stati infatti fermati qualche minuto prima delle due dalla squadra volante all'altezza della strada regionale per un normale controllo, ma nel verificare le dotazioni di emergenza gli agenti avevano chiesto a due uomini di aprire gli sportelli del furgone. I due avevano così dichiarato che le porte erano bloccate a seguito di un guasto. Insospettiti, i poliziotti avevano verificato di persona scoprendo all'interno del furgone la refurtiva. Migliaia di pezzi di rame tra grondaie, staffe e reti. I due uomini sono stati arrestati dalla squadra volanti della questura di Arezzo. Per loro l'accusa di furto aggravato. Il colpo era stato messo a segno in una lattoneria di Manciano. Decisivo il riscontro con le immagini delle telecamere di video e sorveglianza. I due arrestati sono uno in carcere e l'altro ai domiciliari.